Ancora! Ancora! Ancora uno! Così! Ottimo lavoro! Ora rifallo! Ma stavolta devi colpirmi! Tre volte! Colpo parato! Riprovi! Tre volte! Altrimenti lo vado! Tre volte! Tre volte! Tre volte! Tornamnete! Danima! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Combatti, ma... Attendi l'attimo giusto e colpisci! Ancora! Concatena le tue mosse! La mossa giusta al momento giusto! Ancora! Un giorno triste, ma memorabile! Il figlio che piega il padre! Sai brandire la spada... Ma non sguainarla troppo in fretta... Prova sempre a tendere la mano prima... Passeggiamo! Si dice che Roma sia in grande fermento! Sì, viviamo in tempi difficili... Le elezioni potrebbero cambiare... Tutto! Te ne faccio dono, così come tuo nonno fece con me! Quando dovrai condurre degli uomini... Ripensa a quello che sto per dirti... Secondo la leggenda, Damocle fu un grande guerri... Condottiero rispettato di una grande armata... Durante una battaglia... I suoi fili comandanti l'abbandonarono... Lo spirito di Damocle giunse negli inferi... E lì Nemesi, dea della vendetta... Si mostrò adirata per la sorte toccata all'impavido... Concesse a Damocle di tornare nel mondo dei vivi... Come spirito vendicatore... Uno spettrato... Centurione armato... Che avrebbe braccato e trucidato... Ciascuno dei generali traditi... Oggi... Molti comandanti recano un pugnale... Con l'immagine di Damocle sulla Guaida... Il pugnale rammenta loro di essere sempre rispettosi... Verso i propri coscritti... Per non incorrere a loro volta... Nell'ira vendicatrice del Centurione Nero... Settiva! Barbarie! Seguimi! Settiva! 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 Magbeth! Settiva! Non ho preso, sentima! Madre! No! 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 Udirete! Tutti fino all'ultimo! Che succede? Uccidilo! Uggi finché puoi! Tutto bene! L'ultimo accadente! Guardate! Oh! Asit... Pergast ganze ru UK I spy... Oh! Fire card! Yeah! Ah! Ah, che c'è! Pagherete per questo! Tutti! Oggi morirai! ... ... ... ... ... non 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 padre Ascolta, vogliono ucciderci, Marius Dobbiamo arrivare al senato per salvare la mia gente Solo tu e io Avanti, Marius No, 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 no No, 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 no Di là, la Teng del Cofano Corri 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 Grazie a tutti 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 Salvalo Grazie a tutti Non più Grazie a tutti 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 Grazie a tutti